La Guerra dei Cent'anni, un conflitto epico che ha forgiato l'Europa. La Guerra dei Cent'anni, combattuta tra il 1337 e il 1453, fu un conflitto intermittente ma sanguinoso che sconvolse l'Europa occidentale, in particolare Francia e Inghilterra. Nonostante il nome, la guerra durò in realtà 116 anni e fu caratterizzata da fasi alterne, con battaglie campali, assedi, incursioni e guerriglia. Le cause del conflitto, le cause della Guerra dei Cent'anni furono molteplici e complesse. Tra le più importanti, questioni dinastiche, Edoardo III d'Inghilterra vantava la pretesa al trono di Francia in quanto nipote di Filippo IV il Bello. Rivalità territoriali, l'Inghilterra possedeva vasti territori in Francia, come la Guienna, che alimentavano tensioni tra le due monarchie. Fattori economici, la guerra fu vista come un modo per acquisire ricchezza e bottino. Nazionalismo, l'emergere di un forte sentimento nazionale in entrambi i paesi contribuì all'astio e al desiderio di vittoria. Le principali fasi della guerra, la guerra può essere suddivisa in tre fasi principali. Prima fase 1337-360, l'Inghilterra ottenne diverse vittorie, tra cui la celebre battaglia di Cresi 1346 e la conquista di Calè 1347. Seconda fase 1360-1420 la Francia si riprese grazie a figure come Carlo, Quinto e Bertrand Duguesclin, riconquistando alcuni territori. Terza fase 1420-1453, la guerra volse a favore della Francia con l'ascesa di Giovanna d'Arco, che ispirò l'esercito francese e contribuì alla vittoria nella battaglia di Patai 1429. La guerra si concluse con la conquista di Bordeaux da parte dei francesi nel 1453. Le conseguenze della guerra, la guerra dei cent'anni ebbe conseguenze profonde su entrambi i paesi, Francia. La Francia uscì dalla guerra rafforzata e unita sotto un'unica monarchia. L'Inghilterra perse i suoi territori francesi e subì un periodo di instabilità politica. Europa, la guerra contribuì al declino del sistema feudale e all'ascesa delle monarchie nazionali. La guerra dei cent'anni nella memoria collettiva. La guerra dei cent'anni ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, alimentando leggende, opere letterarie e artistiche. Figure come Giovanna d'Arco sono diventate simboli di coraggio e patriottismo oltre la guerra, oltre alle battaglie e alle conquiste. La guerra dei cent'anni fu anche un periodo di importanti cambiamenti economici, sociali e culturali. La guerra contribuì allo sviluppo di nuove tecnologie militari, come l'artiglieria, e alla nascita di un'identità nazionale più forte in entrambi i paesi. Conclusione, la guerra dei cent'anni fu un evento di enorme portata che cambiò il corso della storia europea. Le sue conseguenze si fecero sentire per secoli e ancora oggi la sua memoria influenza la nostra percezione di Francia e Inghilterra.